Slingi i sogni in te, tu sei unica, puoi sorridere, il futuro è qua. Se è così la realtà non va, all'improvviso tu lo saprai, che principessa diventerai, sarà un buongiorno fantastico. Parla con le stelle sull'assù, chiedi cosa mai ti accadrà, c'è un mondo magico che aspetta a te, là nel regno delle bambole. Riga-chan, stringi i sogni, conoscerai la tua storia, luce che poi ti avvolge in un abbraccio. Riga-chan, guarda avanti, scoprirai chi ti protegge un attimo, un incontro più là del tempo. Sono sogni ma, da difingere, con la fantasia e felicità. Stai scambi in te. Tale è la tua impudenza, come osi mostrarti qui al mio cospetto dopo i tuoi continui fallimenti? Qual è la giustificazione di tanti insuccessi? Vostra eccellenza, mi chiedo perdono. Concedetemi ancora un po' di tempo, vi prego. Don Riga, è lei la causa dei miei fallimenti? Silenzio, non voglio ascoltare oltre, adesso il tuo unico compito è di ricondurre qui Riga. Sì, lo farò. La ragazza di Rui È finito, è un segnalibro bellissimo. Grazie, Sumire. Perché non costruisci qualcosa di più carino? Non credi che un segnalibro sia un oggetto inutile, Riga? Affatto, e smettila di disturbare. E tu cos'hai costruito? Un ponte di ferro. È mai possibile che sei interessato solo a cose del genere? Guarda, dai, ti piacciono i nostri lavori? Oh sì, come no! Sono un fungo e una rana, vero? No, è un mostro! E questo è un razzo! E se regalassi il segnalibro che ho realizzato a Rui? È una buona idea! Allora potresti utilizzare questo. Ma cos'è questa piantina? Non lo sai, è un quadrifoglio. In amore porta fortuna. Grazie mille, Sumire. Sono tornata! Spero proprio che a Rui sia utile. Di lei... Di lei io non so nulla. Per questo motivo vorrei conoscerla meglio. Comunque sia, nonostante io non sappia niente riguardo al suo passato, di una cosa sono sicuro, una soltanto. Trovarmi in sua compagnia mi rende davvero felice. Ai, che male! Oh, Rikachan, ma cosa fai lì per terra? Beh, io niente, niente. Volevi forse dirmi qualcosa? Ma accomodati, non restare lì. No, ecco io, adesso devo andare, scusami. Ciao! Ma, Rikachan! Vedi, Sumire, ho scoperto che c'è una ragazza che piace a Rui. Beh, tu però non l'hai visto sbaglio, eh, Rikachan? Non ce n'era bisogno. Non dire così. È stato uno shock per me venirlo a sapere. Non è giusto! È così, allora. Quindi quell'antipatico ha trovato una ragazza, finalmente. Quando lo smetterai di ascoltare i discorsi degli altri? Avanti, Rikachan, che importanza può avere se Rui sia fidanzato o no? Smettila! Non trovate che sia piuttosto sciocco stare qui a fare delle supposizioni? Cosa vuoi dire, Tomo? Avanti, spiegati meglio. Ciò che voglio dire è che non bisogna trarre conclusioni senza prima esserne sicuri. È vero, perché non andiamo a verificare di persona? Cosa verificare? Ma non puoi! Tetsu ha ragione, avevamo deciso di andare a giocare a calcio dopo la scuola. Fate silenzio, voi due! Allora, Rikachan? Verificare di persona? Ma come possiamo fare? Sentite, perché non lasciamo stare tutto e ce ne andiamo? Impossibile, ormai siamo arrivati fin qui. Guardate, eccolo! Perfetto, su, andiamo! Cosa hai intenzione di fare? Beh, mi sembra naturale, voglio seguirlo di nascosto. Senta, signorina, vorrei un altro caffè, grazie. Subito, signore. Ma si può sapere che sta facendo lì da solo? Ormai è lì seduto da 36 minuti e 51 secondi. Forse starà aspettando qualcuno. Rui! Oh, che bella ragazza! Cosa? E adesso questa chi è? Scusa, ti ho fatto aspettare. Oh no, non preoccuparti, sono appena arrivato. Ma non è vero, l'ha aspettata per più di 30 minuti. Per essere precisi, per 37 minuti e 27 secondi. Forse è lei la sua ragazza, non credete? Può darsi. Vorrei quello che ha preso il mio compagno. Subito, signorina. Come compagno? Ma allora lei è davvero la sua ragazza? Vuoi stare un po' zitto? Alla fine l'ho letta. E allora capisci cosa volevo dire? Sì, è una dichiarazione d'amore così intensa, ma i letteri che più belle. Sono convinto che questo incontro sia stato voluto dal destino. Sì, hai ragione, anch'io la penso come te. Ma allora perché? Io non riesco proprio a capirlo. Per quale motivo non rivelare niente nonostante un amore così grande e appassionato? Beh, forse un motivo c'è. A noi donne piace tenere nascoste alcune cose, soprattutto alla persona di cui siamo innamorate. Capisco cosa vuoi dire, ma rivelare almeno il nome. Cosa? Ma è incredibile! La sua ragazza non sa nemmeno il suo nome! Comunque sia, nonostante io non sappia niente riguardo al suo passato, di una cosa sono sicuro, una soltanto. E voi? Cosa state facendo qui? Beh, ecco, veramente, noi... niente. Guy! Ciao! Oh, scusate il ritardo. Ehi, ma cosa fai lì? Prego. Come mai ve ne stavate lì dietro? Scommetto che stavate giocando. Ah, ma allora li conosci? Sì, lei si chiama Rika Kayama. Ho affittato la stanza in cui vivo adesso dalla sua mamma. E questi altri bambini invece sono suoi compagni di scuola. Che bella bambina! Piacere di conoscerti, Rika. Sai, io sono... Aspetta! Rika-chan! E perché ora è scappata? Che strana bambina. Ma di solito non si comporta così. Hai visto, Poole? La principessa è scappata all'improvviso. È pur sempre una ragazza. Adesso starà soffrendo. Dopo quanto è successo non può far altro che sentirsi ferita. Eh? Cosa vuoi dire? Niente, niente. Tanto non riuscirai mai a capire queste cose. Questa mi ricorda il periodo in cui anch'ero bambina. Cosa? Il periodo in cui eri bambina? E perché? Ah, lasciamo stare. Piuttosto dobbiamo avvertire il dottor Scarecrow. Ma non possiamo andarcene adesso. La mia torta e il mio gelato al tè verde non sono ancora arrivati. Ma non dire sciocchezze! Su, fatti forza. Tirati su, Rika. Avanti. Non vale la pena prendersela per un tipo del genere. Già, ma per lei è stato lo stesso una sciocca. Insomma, Tomo, così non ci aiuti affatto. Stiamo cercando di consolarla. Consolarla! Sì, però... Rika, io... Come? Rui Asagiyama ha una ragazza? Sì, ed è anche molto bella. Dopo averlo scoperto, la principessa sembra essere rimasta molto delusa. Dunque, come potremmo approfittare di questo? Idea! Prenderò le sembianze di Rui e le dirò Rika-chan, devo dirti una cosa molto importante. Io amo solo te e nessun altro. Cosa vuoi trasformarti in Rui? Ma non capisci che ti riconoscerebbe chiunque? Mettete subito a punto una strategia Sua eccellenza è furiosa per le nostre disfatte. Allora mi ascolti, dottor Schercro. Stavolta credo di avere un'idea geniale. Stavolta non falliremo. Che buono questo stufato. Sei stata brava a cucinarlo, mamma. Che ti succede, Rika? Non hai neanche toccato la cena? Qualcosa non va? Forse non ti senti bene? Ho finito, scusate. Che cosa le sarà successo? Non ne ho idea. Sono convinto che questo incontro sia stato voluto dal destino. Sì, hai ragione. Anch'io la penso come te. Lei si chiama Rika Kayama. Ho affittato la stanza in cui vivo adesso dalla sua mamma. Che bella bambina. Piacere di conoscerti, Rika. Io vado. Buongiorno, Rika-chan. Vai a scuola? Anch'io. Potremmo fare un po' di strada assieme. Rika-chan, ma cosa... È da ieri che si comporta in questo modo strano. Oh, buongiorno, signora Kayama. Non capisco cosa le sia successo. Forse non sta bene. Questa mattina non ha quasi toccato cibo. Devo sbrigarmi. Sono in ritardo. Oh! Parco dei divertimenti di Uzzura. Biglietto omaggio. Hai letto bene, ragazzo. Oggi l'ingresso è completamente gratuito. E non solo. Anche le attrazioni e le giastre saranno del tutto gratis. Capito? Gratis! Metti da parte la tristezza e fa posto al buon umore. Divertiti! Mettere da parte la tristezza? Io non sono triste. Dici davvero? Beh, allora ecco, sì. Se hai qualche amico che lo è, potresti invitare lui. Già, è vero. Allora, grazie, signora. Rika-chan! Ti prego, fatti forza. Non pensarci più. Non è da te essere così triste. Guarda! Ma cos'è quel? Un belletto di ingresso gratuito al parco dei divertimenti di Uzzura. Andiamoci tutti insieme, Rika. Così potrai dimenticare tutte le cose brutte e tristi. Grazie, dai. Di lei io non so nulla. Per questo motivo vorrei conoscerla meglio. È apparsa così improvvisamente nella mia vita. Sì, senza che me ne accorcessi. Salve. Buongiorno a lei. Mi scusi se la disturbo. Sa, passando davanti al suo negozio sono stata attratta da queste bambole e non ho potuto fare a meno di entrare. Ah, prego. Le osservi pure. Sembrano così felici. I loro volti sono così sereni. Eh... Hanno già avuto molti padroni, ma penso che continueranno ad essere amate per ancora dieci anni. Forse per cento anni. Da quel momento in poi iniziò a visitare sempre più spesso il mio piccolo negozio. Ed infine io me ne innamorai perdutamente. Ma lei non mi raccontò mai niente della sua vita. Non mi rivelò nemmeno il suo nome. Neanche il luogo da cui proveniva. E nonostante io le facessi tante, forse troppe domande, lei non rispondeva. Ma tutto questo per me non aveva alcuna importanza. Anche il solo averla vicino e il solo poterla osservare era motivo di gioia per me. Mi rendeva infinitamente felice. Sono felice, ma anche se è malincuore, non posso accettarlo. Non posso, credimi. Perché? Perché io... Perdonami, ti prego, ma io non posso restare qui con te per sempre. Mi dispiace tanto. Non capisco, ma che cosa... Ormai per me è giunto il momento di ritornare nel paese da cui provengo, il regno delle bambole. Cosa? Il regno delle bambole? Ma com'è possibile? Tu... Porterò sempre il tuo ricordo nel mio cuore. No! Aspetta! Non andartene! Addio! E così lei sparì di fronte ai miei occhi avvolta da una luce abbagliante. Ma di una cosa sono sicuro. Ciò che mi accadde non fu un sogno e lo testimonia il braccialetto che lei mi diede e che ancora porto con me. Il solo guardarlo mi dà la forza di continuare ad aspettare il suo ritorno. Caro nonno, la persona che tu hai perdutamente amato faceva parte senza dubbio della civiltà fantasy. Ancora sorto nella lettura di quel diario? Eri qui allora. Ma che bel saluto! E poi, non ricordi, mi hai detto tu che avrei potuto trovarti qui. Ah, sì? Su, adesso dobbiamo andare, Rui. Non possiamo far aspettare Guy. Non ti sembra un sogno poter entrare gratis in un parco dei divertimenti? Insomma, dai, adesso Rika non è nello stato d'animo giusto per divertirsi. Ciò che, Zio, in queste occasioni l'unica cosa che bisogna fare è cercare di distrarsi senza pensare a niente. Però, forse non hai tutti i top. Hai avuto una bella idea, davvero? Oh no, è Rui! Ciao, Rika-chan! Dove andate tutti insieme? Ehi, ma cosa le succede? Non potevi scegliere momento peggiore per farti vedere. Se proprio lo vuoi sapere, andavamo al parco giochi. Abbiamo anche dei biglietti omaggio, capito? Forza, andiamo. Come? Chiuso per lavori di rinnovo. Ehi, un momento, qui c'è qualcosa che non va. Benvenuti a tutti! Vi stavamo aspettando! Tranquilli, non preoccupatevi per il cartello. È un'espediette per consentire l'entrata solo ai clienti con biglietto omaggio. Davvero? Ma è fantastico! Ma oltre a noi, qui non c'è nessun altro cliente. Eh? Ah, sì, già, è proprio così. Ma adesso non preoccupatevi. Su, entrate e divertitevi! Che bello! Oggi non ho alcuna voglia di divertirmi. Avrei dovuto saperlo. Ma come si sta muovendo? Principessa Rika, ti stavo aspettando. Ma tu... Il momento è giunto. Oggi ti condurrò con me. No, ma chi sei tu? Enrica! Turururu, turururu, turureiro, turureiro. Turururu, turururu, turureiro, turureiro. Ora torneremo insieme nel regno delle bambole. Lasciami stare! Fermati! Signorina, ti prego, aiutami! No, ancora tu, Don Rika! E sia, mio destriero! Liberati in volo e conduci con te la principessa! Te l'ordino! Aiuto! No, principessa Rika! Ormai lei verrà ricondotta nel regno delle bambole. Combatti, Don Rika! Sarò io il tuo avversario! Ehi, un momento! Ma dove vai? Signorina! Adesso te ne devi forte! Va bene! Principessa Rika, vi prego, rispondete. Siete ferita? No! Come hai osato rendere ridicolo me il grande scherco! Ora sarebbe inutile affrontarti, ma non dimenticherò una tale offesa! Puli, se n'è andato! Non è possibile, ma perché finisce sempre così? Ormai siete al sicuro. Grazie, signorina. Rika! Rui! Ci siamo spaventati, lo sai? Sei sparita così all'improvviso! Tutto a posto, Rika-chan, stai bene? Rui, ma perché anche tu sei qui al parco? Beh, perché Itomi si è ricordata che il parco era chiuso, così ci siamo preoccupati. Ecco perché siamo venuti a cercarvi. Itomi! È questo allora il suo nome! Ma Rui, l'altra volta non avevi detto di non conoscerlo. Non capisco, cosa vuoi dire? Oh no, l'ho dimenticato! Sì, pronto? Oh, finalmente Itomi, mi stavo preoccupando. Ma dove sei? Come al parco? Scusami, Guy, è che c'è stato un contrattempo. E comunque anche tu, ogni volta che mi dai un appuntamento arrivi sempre in ritardo. Su, non arrabbiarti. In fondo possiamo incontrarci adesso. Come? Ha detto appuntamento? Ma allora questo significa che loro... Stanno insieme. Ma come? Sì, lei e Guy sono fidanzati, ricacciante. Non vorrei sbagliarmi, ma credo proprio che tu abbia pensato che io fossi la ragazza di Rui, non è vero? Beh, ecco, veramente io, visto che tu e Rui eravamo da sempre insieme, pensavo... Non preoccuparti, noi siamo solo amici. Rui, Guy e io siamo sempre insieme proprio perché siamo amici. Che cosa? Allora sbagliavamo. Ma non capisco, allora chi è la vera ragazza di Rui? Cosa? La mia ragazza? Ho capito, parli di questo, vero? Credo proprio che tu mi abbia sentito mentre leggevo a voce alta il diario del nonno. Come hai detto il diario del nonno? Sì, esatto. In esso, mio nonno descrive la sua storia d'amore con una ragazza misteriosa. Sapete, lei gli aveva confessato di provenire dal regno delle bambole. Come? Tuo nonno ha amato una ragazza proveniente dal regno delle bambole? È una cosa incredibile, ma è vero, Rui. È ciò che vorrei scoprire attraverso i miei studi. Ed è tale l'interesse che ho per essi che non sbaglierei se li definissi la mia vera ragazza. Allora stavano così le cose. Una tale confusione soltanto per un banale equivoco. E il povero Dai che fino ad ora si è preoccupato tanto. Cosa? Io non mi sono affatto preoccupato. Rika-chan, allora quello... Ma certo, hai ragione. Senti, Rui. Dimmi, cosa c'è? Beh, ecco, vedi, io volevo regalarti questo. Tieni. Questo è per me, Rika-chan. Evviva, ci sei riuscita! Un momento. Anche a me è successo quando ero al terzo anno degli elementari. Il primo amore. Ma veramente io? Ancora un altro fallimento. Ma qualunque cosa venga, Rika dovrà essere condotta qui. Se ciò non dovesse avvenire al più presto, il regno delle bambole svalirebbe. Un'improvvisa nevicata sulla città di Otsura rende felicissimi Rika, Dai e gli altri amici. Ma chi sarà stato veramente a far nevicare? Prossimo episodio, La strega del freddo reame. Io, Dol Rika, non permetterò a nessuno di fare del male alla principessa. Sfingi i sogni in te. Se è così la realtà non va, all'improvviso tu lo saprai. Che principessa diventerai, sarà un buongiorno fantastico. Parla con le stelle, sono lassù, chiedi cosa mai ti accadrà. C'è un mondo magico che aspetta a te, là nel regno delle bambole. Rika, Gian, stringi i sogni, conoscerai la tua storia, luce che poi ti avvolge in un abbraccio. Rika, Gian, guarda avanti, scoprirai chi ti protegge un attimo, un incontro più là del tempo. Sono sogni, ma sono sogni, ma da dipingere da dipingere con la fantasia con la fantasia e felicità tutti i sogni in te.